Una casa per tre poveretti! Già, non è vero! Non è giusto! Capirai, Pilu! Nel frattempo, però... Guarda! Che bello! È tutto nostro! Guarda! È un temperino! Temperiamo la metita! Sì! Ma che bello! Che bello saccheggiare! Giochiamo a calcio! Giochiamo a calcio! Papirini, giochiamo a calcio! Allora, vediamo un po' chi vince! Goal! Ma che cosa c'è? Il bowling! Mi piace tanto giocarci! Oh! Vediamo un po' chi butta giù più... Più birilli! Ah! Vediamo! No! Non ho fatto strike! Vediamo un po'! No! Siamo pari! Vabbè, pazienza! Ci giocheremo più tardi! No! Il ping pong! Ma che cosa avevano questi poveretti diventati ormai ricchi? Ma adesso sono ritornati i poveretti! Ma qui c'è la ping pong! Oh, questa la possiamo mettere dentro! Tanto non ci serve! Ma almeno il ping pong è il mio gioco preferito! In assoluto! Giochiamo, dai! Ok! Sì, 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 sì! Ah! Che bello! Allora, mettiamo le gattette dentro... No! Ma questo è una scatola di bowling! Scusate! Ah! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Quanti cacchi abbiamo? Sì! Tiriamo i dati! Vedi un po'! Chi vince? Tre! Niente male! Quattro! Ho vinto! Mannaggia! Ragazzi, io vi presento Enric! Ed è il poliziotto! Oh, ciao Enric! Ciao! Buongiorno, signor Enric! Oh, ciao! Poveretti! Che cosa è successo? Allora, abbiamo invitato delle scimmie che migrano e che hanno rubato tutto il nostro appartamento. Io le conosco! Ok, vado! Oh! Leone, ci riuscirà? Ma certo che sì! Eccovi qua! Brutte scimmie! Brutte scimmie! Oh no! Ma chi sei tu? Sono il poliziotto e mi ha chiamato Leone! No! Lo conosciamo! E non voglio! Scampiamo! Non c'è più scampo! Vi porto in galera! No! Oh no! Guardate! È tutto sparpagliato! Ecco qua, signor Leone! Grazie! Oh! La arrediamo di nuovo? Ciao, signor poliziotto Enric! Ciao! E alla prossima! Allora, sistemiamo tutto! Ma guarda che è successo! Brutte imbroglione! Meno male che adesso sono in galera! Oh mio Dio! Sono stanchissima! Pilu, ti riposerai! Oh, sono stanca! Tranquilla Pilu! Ti riposi! Oh, vado a letto! Nel frattempo mettiamo qualche... Allora, mettiamo questa rota qua! Questi dadi pure! Il pallone lo mettiamo nella stanza di Pilu! E ci restano solo queste cose! Questo! Questo! Poche cose ci mancano! Oh, oh! Meno male che ci ha salvato! Il poliziotto Enric! Da quelle...